ciao a tutti anime bentornati qui sul mio canale su quinta dimensione letture un caloroso saluto e un grande ringraziamento a tutti quanti sia chi mi segue da tanto tempo ma anche chi mi ascolta per la prima volta e si trova qua ad aver aperto questo video vi ricordo a tutti di iscrivervi a questo canale e attivare la campanellina cliccando su tutte per ricevere proprio tutte le notifiche di quando pubblicherò nuovi video allora oggi un altro contenuto importante per la crescita va bene e soprattutto per aiutare il passaggio proprio ascensionale dalla terza dimensione in su la quarta la quinta e ci fermiamo per il momento alla quinta perché andando più su vuol dire che nel senso comunque sono diciamo dimensioni abitate per il momento da esseri insomma non non in carne ecco parliamo così allora abbiamo la nostra genesa qua dove dentro vedete il mio mazzo dei messaggi di vigno oracolo leggete la descrizione del video sotto per tutte le informazioni per parlare con me per acquistare i miei oracoli per avere le vostre consulenze tutti i servizi che offro è che poi vi rimanda comunque al sito web quinta dimensione letture punto it dove ci sono altri contenuti e anche le parole magiche le parole magiche sono di cristiano tenka che ha scritto diversi volumi proprio sulle parole magiche oggi andiamo ad affrontare una che ritengo essere importantissima perché non è solo il discorso ascensionale serve proprio per curare adesso vi spiegherò vi leggerò proprio cosa scritto tenka su quello che andremo a fare vi ricordo è molto importante associato a questo che faremo adesso vi metto in descrizione anche il decreto il link per l'accelerazione della nuova era che è molto importante non è di tenka quello però è un altro tipo di decreto proprio dei maestri ascesi è che è molto diciamo correlato a questo aumenta anche esso insieme a questo sono un bel binomio va bene che ci aiuta proprio nel passaggio sapete che le nostre energie devono adattarsi a queste nuove energie di luce più alte che stanno arrivando codici che ci arrivano portali in continuazione siamo sottoposti proprio a forti raggi diciamo forti codici forte luce e quindi tutto questo la parola magica che faremo oggi ci aiuterà proprio a fare entrare meglio tutto questo in noi elevare ancora di più la nostra frequenza vibratoria allora facciamo intanto vi leggo che cosa significa quello che facciamo oggi e prendo proprio quello che ha scritto tenka ascoltate bene allora appunto dicevo la prima cosa che ho detto è questa questo che faremo oggi può essere usato e messo in relazione con la trasformazione cellulare del corpo cui l'umanità viene attualmente sottoposta che cos'è la trasformazione cellulare del corpo è proprio la cosa che accade no quando si si è nel proprio nel passaggio ascensionale quindi dalla terza dimensione che si sale ai fini dell'assunzione di una più elevata frequenza vibratoria per la transizione in quarta e quinta dimensione ok quindi ci aiuta proprio in questa transizione questa parola magica però serve anche a che cosa a rigenerare più velocemente il corpo dopo una malattia un incidente oppure guarire completamente anche per la rimessa in sesto dell'animo dopo una dura prova di carattere emozionale attraversata aiuta la ricostruzione di un organo specifico del corpo che ha subito danni come polmoni fegato muscoli e tendini ferite da rimarginare sulla pelle far bloccare la senilità la degenerazione dell'apparato dentale o altri organi ok dopo ovviamente per tante cose mi raccomando sempre il medico ok questi sono lavori che vanno ad aiutare ok a far muovere più velocemente l'energia per arrivare proprio alla guarigione quindi ricordo le parole magiche vanno recitate dalle tre alle cinque volte al giorno in tre momenti diversi della giornata tre o cinque volte il mattino tre o cinque volte il pomeriggio tre o cinque volte la sera leggete la descrizione del video perché lo ripeto possono essere anche inserite in genesa diciamo la genesa sapete andatevi a vedere anche ve lo metto il link di come si attiva e come si lavora con la genesa a metà altezza possiamo legare un filo qua sopra di cotone bianco oppure mettere un bicchiere che ci arriva proprio a metà genesa posizioniamo sopra il fogliettino rigorosamente quadrato quadrato il colore non importa e ci scriviamo quello che noi vogliamo ottenere non solo la parola di oggi ma anche altre cose che vorremmo avere e lo scriviamo in stampatello di colore nero la penna mi raccomando vedete i video sotto andate anche a vedere la playlist dove ci sono i decreti parole magiche eccetera perché ogni volta lo rispiego allora la parola magica la facciamo adesso insieme ovviamente sempre un attimo di concentrazione con dei respiri e pensate proprio che questa parola va proprio a incrementare questa frequenza vibratoria in questo passaggio ascensionale ma anche nelle altre cose questo tipo di problematiche che richiedono proprio questo anche a livello corporeo va bene iniziamo l'accento è sulla prima e rigè nesis va bene mi raccomando anche per tutte quelle cose che ci sono i le parti del corpo che devono essere insomma rigenerate appunto magari anche dopo interventi insomma ok prima fate la vostra strada nella medicina ufficiale e poi incrementate come valido supporto anche i lavori energetici mi raccomando ma soprattutto mi rivolgo anche a quelli che vogliono veramente tantissimo la crescita spirituale che hanno capito la loro missione hanno capito che cosa siamo qua sulla terra cosa sta accadendo dove stiamo andando e vogliono incrementare ancora di più questi codici di luce che arrivano questo passaggio proprio alle dimensioni più alte dicendo proprio rigenesis io l'ho già fatte da tempo e vi posso assicurare che funziona si integra si integra proprio questa energia in più è rigenesis va bene ditelo ditelo preferisco lo sapete già ma non io perché personalmente ma che lo diciate a voce questa cosa va bene trovate proprio il momento ideale per farlo quindi adesso prendiamo il mio mazzo qua dei messaggi divini spostiamoci un po mettiamo la nostra genesa qua a lato e iniziamo con i nostri consigli ok ho preso proprio i messaggi divini perché ci sta molto bene proprio col discorso ascensionale vediamo tu intanto scegli una pallina se non hai già scelto che io mischio parto in alto e andrò in senso orario quindi il primo messaggio pallina arancione secondo messaggio pallina blu terzo messaggio pallina rossa quarto messaggio pallina viola molto bene parto dalla 1 vediamo messaggio di vino oracolo per la pallina arancione chi ha scelto la 1 la prima carta lo stesso pensiero che mi mandi sarà quello che riceverai numero 16 attenzione alle parole pensieri che esprimi ecco qua soprattutto chi ha scelto la 1 deve fare le parole magiche che sono già ben indirizzate testate proprio da tenka a livello energetico lo stesso pensiero che tu fai in realtà è quello che tu ricevi a livello energetico vibrazionale e appunto perché abbiamo bisogno proprio di incrementare la vibrazione attenzione alle parole pensieri che diciamo va bene qui la lettura 1 deve stare attenta a quello che pensa a quello che dice magari c'è una tendenza insomma ognuno per i suoi motivi a a dire magari le cose in modo sbagliato a pensare che tanto va male o pensare tanto non succede ecco tutti questi diciamo queste cose sbagliate ma più che altro per abitudine anche un po' quindi rivediamo un po' tutto lo schema di tutto quello insomma che noi diciamo che non è corretto va bene questo era per te lettura 1 numero 16 un numero che potrebbe essere sincronicamente perfetto che potrebbe portarti anche dei messaggi che ne so 16 da una parte che lo vedi dall'altra parte devi scegliere che ne so il 42 il 16 sarebbe più adatto potrebbe essere un numero civico magari il numero di una casa che ne so per te giusta va bene tante di quelle cose ci sono a livello sincronico con il divino che veramente stupirsi e dire poco può essere di tutto va bene grazie mille lettura 1 io proseguo vado avanti allora pallina 2 la blu sono con te chiamami tre volte numero 34 gli angeli e maestri ascesi sono con te in questo momento eccoci qua rigenesis eh gli angeli e maestri ascesi sono con te in questi momenti in questo momento quindi c'è una vicinanza diciamo è la persona che ascolta proprio in questo momento magari più di altre volte a volte ci sono di più a volte di meno dipende un po' anche dal nostro bisogno in quel momento angeli e maestri ascesi ci sono questa è una conferma sono vicino a te magari tanti già lo sanno perché sentono avvertono qualcosa questa è una conferma chiamami tre volte perché si dice questo perché il potere come dicono i maestri ascesi del tre volte tre anche a volte quindi anche tre sei nove il potere del tre volte tre significa che più potente a livello energetico vibrazionale va bene angeli venite angeli venite angeli venite va bene è più forte come diciamo chiamata come vibrazione potete farlo tre sei o nove volte il potere del tre volte tre questa è per te quindi se tu già avverti ma anche se non avverti c'è una conferma di vicinanza di un caldo abbraccio di energia amorevole nei tuoi confronti pallina numero due grazie mille questo era per te il messaggio vado avanti vediamo la pallina numero tre chi ha scelto la rossa ti sto comunicando con i numeri cerca il significato ecco qua è uscito il 11 11 ti sto mandando segnali forse potrebbe essere anche non so l'orario che vedi spesso il numero angelico per eccellenza 11 11 anche se anche il 4 anche insomma ce ne sono diversi veramente di numeri angelici ma sapete che negli ultimi anni ha spopolato molto questo 11 11 di vederlo da tutte le parti insomma non è l'unico numero angelico però è stato molto molto parlato questo 11 11 e ti sto comunicando con i numeri ci dice qua andate a vedere la playlist il significato dei numeri degli angeli che è su questo canale andate proprio sotto playlist e la cercate si chiama numeri degli angeli va bene suddivisa in diversi video cerca il significato dei numeri ti dice qua al di là dell'11 11 qui la persona potrebbe vedere anche altre sincronicità numeriche nella sua vita che si ripetono molto spesso quindi qua devi cercare assolutamente che cosa vuol dire cerca sia nel mio video ma cerca anche da sola o da solo è molto importante la ricerca personale che tu fai perché fai vedere che c'è un impegno veramente di conoscenza che vuoi sapere che vuoi capire e non aspettare solo che qualcuno te lo dica intanto impegnati tu a cercare il significato poi di materiale di persone che già hanno messo delle cose a disposizione vostra ce ne sta tanto e ce ne sta ce ne sta tantissimo quindi attivati nel cercare perché ci sono dei numeri che ti vogliono comunicare qualcosa ci dice qua pallina 3 rossa grazie mille io vado avanti e andiamo con la nostra pallina viola numero 4 chiedici di aiutarti senza il tuo permesso non possiamo intervenire qua c'è da rinnovare il permesso 441 411 ti do il permesso di aiutarmi allora qua è arrivata una richiesta specifica da essere di luce alla persona che ha scelto la 4 viola c'è da rinnovare se magari l'hai già dato il permesso tempo fa sapete questo più che altro è un argomento che viene fuori in privato dovete darlo ogni tanto il permesso rinnovare questa fede questa fiducia ok di aprire le braccia e dire mettimi nella strada giusta portami dove devo stare fai cambiare quello che deve cambiare io accetto questo è un atto di fede potentissimo e questo dare il permesso riassumendolo si chiama così dare il permesso quindi dovete proprio dirlo io ti do il permesso di aiutarmi questa è la frase proprio da recitare in questo momento quando ti arriva questo video è necessario che tu rinnovi se l'hai già fatto se non l'hai già fatto è una cosa che dovresti iniziare ogni tanto a fare ai tuoi esseri di luce agli angeli alle guida le famiglie dell'anima ma ce ne abbiamo tanti vicino non c'è solo un angelo va bene chiedici di aiutarti quante lo stanno proprio dicendo perché magari sanno che possono intervenire ma ovviamente rispettando la legge del libero arbitrio che per gli esseri di luce è divina quindi non si può assolutamente eludere non possono scavalcare questa legge ok quindi stanno chiedendo a te proprio di chiedere loro questa cosa di dare il permesso con il tuo permesso allora c'è un intervento più come come si può dire fattibilmente visibile ok si capisce proprio che c'è stato un intervento divino ok capiamoci cosa voglio dire si capisce proprio però ovviamente serve il permesso il lascia passare della persona va bene questo è molto importante qui è arrivata proprio è la 4 lo devi fare questa cosa se credi veramente nel divino se vuoi veramente avanzare nella tua vita vedere dei cambiamenti io ti do il permesso di aiutarmi chiamali come vuoi mie guide nei angeli universo mia famiglia stellare mia famiglia galattica no mie guide questo non ha importanza l'importante dire io ti do il permesso oppure io vi do il permesso di aiutarmi così cominciamo ad aprire una porta lettura 4 grazie mille allora io ricordo a tutti questo rigenesis che è veramente importante molto potente riascoltatevi il video per capire tutte tutti i campi in cui può essere applicata questa questa parola magica molto potente rigenesis mi raccomando leggete anche nello stesso tempo il decreto per l'accelerazione della nuova era dove possiamo anche lì contribuire a cerchiamo insomma quanto meno di di portare più luce in più persone possibili che questa fase ascensionale questa nuova era questa età dell'oro di san germen del settimo raggio viola che proprio possa aver luogo proprio per più persone possibili perché comunque ha luogo comunque avrà luogo non c'è il dubbio su questo è già qui però insomma no il collettivo più persone si risvegliano a certi tipi di energie meglio è ricordiamoci il passaggio della terza dimensione in su per più persone possibili e con questo rigenesis è proprio fattibile questa cosa ok quindi tanto fallo per te perché prima noi non possiamo istruire gli altri se noi siamo scarsi quindi intanto lavoraci su di te così poi puoi istruire anche tra virgolette ovviamente gli altri e passare le informazioni anche agli altri ma la base deve essere sempre su di te prima ok è molto importante questo io anime vi saluto vi ringrazio mi raccomando condividete le informazioni queste cose con le persone anche se sembrano non ascoltare ma qualcuno gli verrà di ascoltare quindi contribuite a far girare queste cose ok è il nostro piacere come missione su questa terra cercare di informare più persone possibili io per il momento vi saluto vi ringrazio e vi aspetto qui su quinta dimensione letture molto presto per un nuovo video insieme a me ciao a tutti e grazie